buongiorno a tutti allora purtroppo è andata come è andata alla champions hanno vinto le squadre che nessuno si aspettava quindi oramai anche se stasera faccio bella figura cambia poco ma veniamo all'europa league vediamo di rifarci o almeno di fare bella figura con l'europa league quando ho visto le partite ho detto va bene non ho i capelli meno male non mi metto le mani nei capelli perché anche qui ci sarà da ridere ci sarà da ridere sorprese su sorprese cose che non ti aspetti e partite che si spera vadano come dovrebbero andare se no ci sono le bottiglie sempre pronte comunque partiamo subito shutter dones benfica 1 2 perché anche questa partita da tripla poi lo shutter è stato capace di perdere in casa 3 a 0 con l'atalanta quindi è capacissimo di perdere anche col benfica a entran francoforte salisburgo salisburgo che se non erro ha perso alland ma è sempre pericoloso comunque l'entra credo che in casa dirà la sua quindi 1 x ludo goles inter 2 anche perché se non esce il 2 partono le bottiglie già mi aspetto che prendiamo il gol perché ci abbiamo la sala ci abbiamo il palo della luce in porta club bruges manchester united x2 perché del manchester in coppa non mi fido mai cluj seviglia 2 copenhagen celtic partita da tripla 1 2 getafe ajax x2 sporting basax seir 1 x bosburg malmo 1 anche se non farà fatica perché il malmo è una squadra che è rognosa è rognosetta però credo che il bosburg dovrebbe riuscire a vincere almeno 1 2 a 0 tranquillamente o magari 2 a 1 3 a 1 punteggi così a z almar lax allora la z domenica mi ha fatto anzi sabato mi ha fatto girare le balle che ha perso fuori casa col 20 mi sembra quindi mi auguro che si siano preparati per la coppa e quindi mi auguro che non perdano quindi 1 x olimpia cosa arsenal x2 perché anche l'arsenal è un'altra squadra che in trasferta non è che si sprechi più di tanto in europa lì poi in casa pettina apolli così a basilea partita tra due outsider come si suol dire che però in coppa rompono i testi quindi 1 2 proviamola così l'everkusen porto 1 wolverentone spagnolo 1 sono un attimino arrischiate se due fisse però ci proviamo poi abbiamo roma gantt mi auguro che la roma almeno col gantt inverta la marcia quindi 1 e glasgow rangers braga 1 x andiamo alla schedina alternativa che qua mi sono sbizzarrito un attimino di più anche con un po di gol ho rischiato un po di gol già subito con la prima schattardones benfica gol francoforte salisburgo gol ludo gore zinter mi a rischio l'over 2 e mezzo sperando che riescano a farne almeno tre di gol nostri perché se no club blu già beh calcolando che uno lo prendiamo quindi l'uno a due ci sta 1 2 1 3 ci può stare quindi si over 2 e mezzo club blu già manchester united over 1 e mezzo perché come dico sempre il manchester non si spreca mai più di tanto in europa lì quando gioca soprattutto fuori casa 1 a 0 basta tanto poi la chiudiamo in casa cluj sevilla over 1 e mezzo copenhagen celtico over 1 e mezzo getafe ajas gol perché questa si presta secondo me una bella partita pirotecnica come si suol dire profumo di gol direbbe altafini sporting istanbul basak seir istanbul sporting basate over 1 e mezzo bosbur malmo over 1 e mezzo perché come dicevo il malmo è sempre una squadra ostica da affrontare si chiude in difesa mette le barricate eccetera eccetera quindi over 1 e mezzo non abbondiamo al mar lax gol perché l'almar ve l'ho detto domenica mi è perso in casa quindi fuori casa col 20 quindi il gollettino lo prende e lo fa olimpiaco sarsenal spero olimpiaco sarsenal over 2 e mezzo a poi il basilea gol perché questa per me è un'altra partita che si presta veramente a una cosa un pochettino di gollettini l'everkusen porto gol e wolverenton e spagnolo over 1 e mezzo poi abbiamo roma ghent over 2 e mezzo perché la roma regola un'altra squadretta che gol li fa li prende li fa quindi ci può stare e glasgo ranger braga over 1 e mezzo veniamo alle bollettine ho scelto naturalmente quattro partite che mi acchiappavano che potevano pagare decentemente potevano anche uscire ci spera quindi partiamo mi arrischio subito ludogore zinter 2 perché ho già detto se no partono le bottiglie come se piovesse cluj e siviglia 2 bayern leverkusen porto 1 e bosbur malmò 1 con 5 euro 46 euro e 75 seconda bollettina due doppie due fisse ludogore zinter 2 cluj siviglia x2 bayern leverkusen porto 1 x e bosbur malmò 1 con 5 euro 18 euro e 66 terza bollettina con tripla opzione cluj siviglia x2 più over ludogore zinter x2 più over bayern porto 1 x più over e bosbur malmò 1 is più over con 5 euro 27 euro e 17 poi per i più coraggiosi chi volesse ridere la x di ludogore zinter e metter due più over e lasciare in variata le altre tre doppie più over si vincerebbero 37 euro e 14 se poi volete essere ancora più coraggiosi ed andare a delidere bosbur malmò mettendo uno più over si andrebbe a vincere 47 euro e 75 quindi facendo due doppie due fisse con l'over e vi ho dato le tre opzioni io sto schiscio 27 17 però per i più coraggiosi c'è la possibilità anche così quarta bollettina al gol casa gol ospite che mi fa sempre libidide cluj siviglia gol casa ludogore zinter gol casa bayern leverkusen porto gol ospite bosbur malmò gol ospite con 5 euro 28 euro e 15 quinta bollettina e qua è un po più incasinata cluj siviglia gol o gol più over ludogore zinter gol più over bosbur malmò gol più over e bayern leverkusen porto gol più over con 5 euro se ne vincono 171,5 però ahimè attenzione allora cluj siviglia il gol più over non è favorito c'è 0 50 a favore nel no gol più under come sempre se il gol più over è a 3 il no gol più under è a 2 e 50 ludogore zinter il gol più over più o meno è alla pari però è leggermente favorito al no gol più under ma siamo sotto lo 0 25 di differenza bosbur malmò gol più over è sfavorito rispetto al no gol più under perché il no gol più under pagano meno 0,40 di differenza quindi se il gol più over è a 3 il no gol più under è a 2 60 bayern leverkusen porto invece il gol più over è leggermente favorito per quello viene fuori quella cifra lì infine il bicombo o il combo il combo il combo cluj siviglia 2 più gol ludogore zinter 2 più gol bosbur malmò 1 più gol e bayern leverkusen porto 1 più gol con 2 euro se ne vincono 451,68 con 5 euro 1129,21 però tutti e quattro questi pronostici sono nettamente sfavoriti ma proprio nettamente sfavoriti rispetto al no gol quindi ho fatto anche la bollettina con il no gol quindi cluj siviglia 2 più 1 gol ludogore zinter 2 più 1 gol bosbur malmò 1 più 1 gol e bayern leverkusen porto 1 più 1 gol con 2 euro se ne vincono 114,33 con 5 euro 285,82 adesso sta a voi decidere quale partita è da gol quale è la no gol e crearvi la bollettina magari facendone due col no gol e due col gol o tre con una oppure lasciare tutto no gol oppure lasciare tutto gol io vi ho dato un po di drittine poi dopo sta a voi usare la vostra testa e decidere quale vi piace di più detto questo vi saluto vi ringrazio speriamo in bene di azzeccare almeno i pronostici delle della schedinazza e poi di beccare almeno un paio di bollette dai ciao